Torna il Festival del Nerd, il tradizionale appuntamento con la Fiera del Fumetto del Capologo Dauno che quest'anno compie 8 anni. L'appuntamento oggi e domani in una location insolita per la manifestazione, ovvero l'Isola Pedonale. Anche per questa edizione previsti ospiti di grande rilievo e diverse novità con la presenza di numerosi stand i cui gestori arrivano da tutta Italia e offrono agli appassionati del settore l'occasione di acquistare e scoprire tanti prodotti del mondo nerd, fumetti, gadget, action, figure e tanto altro. In città importanti i nomi del panorama fumettistico nazionale ed internazionale, oltre alla possibilità di incontrare gli ospiti negli stand allestiti, sono previsti anche diversi laboratori e workshop. In esclusiva la mostra presso la Galleria d'Atte Moderna di Palazzo D'Ogana dei disegnatori Elena Casagrande e Carmine Di Giandomenico. L'evento, organizzato dall'Associazione Festival del Nerd in collaborazione con il Comune, gode del supporto di Covo del Nerd, della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, dell'Università degli Studi e del Polo Bibliomuseale.